L'importanza dell'allattamento al seno per la salute del bambino e della mamma torna ad essere fortemente promossa dal Ministero della Salute, ministero che anche quest'anno propone attività territoriali informative e di consulenza. Dal punto di vista nutrizionale il latte materno è considerato il migliore alimento per il neonato, molte le ricerche epidemiologiche a supporto. Oltre a nutrire in modo completo infatti protegge da numerose malattie ed infezioni. Anche sotto il profilo relazionale allattare al seno contribuisce a mantenere stretto e speciale il legame tra mamma e bambino. L'Organizzazione Mondiale della Sanità suggerisce addirittura di proseguire l'allattamento fino ai due anni ed oltre se mamma e bambino lo desiderano.